Quanto è importante cominciare a parlare di legalità a queste dalle bambini? Ma guardi, vengo proprio dall'avere visitato le classi di scuola materna, della scuola dell'infanzia e i bambini recepiscono tutto quello che a loro si dice, basta parlare il loro linguaggio. Per me è stata un'emozione fortissima perché è proprio da lì che bisogna cominciare e che ci siano degli adulti disposti a parlare questo linguaggio con i bambini piccoli. Questa è veramente la speranza per questa Italia che sembra veramente sgarrupata. A proposito, ho fatto notizia allo scandalo di Roma, cosa ne pensi? Ci scandalizziamo ancora?